Non ci fermeremo, siamo pronti ad andare avanti anche con azioni ben più forti dello sciopero. Così questa mattina i lavoratori ASU di Sant'Agata Militello, in assemblea presso il Castello Galliego, e che hanno aderito allo sciopero regionale indetto dalle sigle sindacali Ale, UGL, Confintesa, Alba, Sinal, Pecub, per oggi e fino al 28 febbraio. Rivendicano azioni concrete che pongano fine alla loro situazione lavorativa gli oltre 5.000 lavoratori siciliani in protesta, attuando quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale del 9 maggio 2017, numero 8, che prevede specifiche misure volte a favorire la stabilizzazione dei soggetti ASU e di risolvere le criticità riscontrate nei sistemi di pagamento dell'assegno di utilizzazione e degli assegni al nucleo familiare. Sono precari da oltre 22, 23, 24, 25 anni. Ci siamo per l'accompagnamento alla pensione, senza nessun contributo, lavoro in nero, tutti i governi regionali, tutti, senza esclusione di nessuno, tutte le deputazioni, con forse poca attenzione di pochissimi deputati, non sono riusciti a dare una risposta concreta alla soluzione di questo precariato che, ripeto, è precariato in nero. Cioè lo Stato e la Regione autorizzano questo personale a lavorare negli enti locali, in questo caso parliamo dei comuni, dove sono ora di enorme supporto alla pubblica amministrazione. Oggi ci siamo riuniti per dare voce a questa manifestazione. Ci fa piacere che tanti sono intervenuti, hanno capito l'importanza oggi di essere qui, di essere presenti e di essere uniti in questa nostra lotta. Che questi lavoratori hanno una dignità che deve essere riconosciuta dalla politica, perché questa macchina folle l'ha creata la politica e questa macchina deve trovare una giusta collocazione. Questa protesta non finirà in questi tre giorni, ma continuerà fino a quando non raggiungeremo l'obiettivo e ci vedrà protagonisti nelle sedi istituzionali, Prefettura, Regione, anche a Roma, fino a quando non raggiungeremo l'obiettivo. Gli ASU sono stanchi di subire questa schiavitù.